Questo viaggio in Africa, la storia di Amedeo Ghieh sembra conclusa, invece non è così. Negli anni 50 Ghieh decide di sfruttare l'esperienza, le conoscenze accumulate e inizia la carriera diplomatica. Insieme alla moglie Biceh sarà ambasciatore d'Italia in Egitto, in Yemen, in Giordania, in Marocco e in India. Il singolare destino di Amedeo Ghieh è quello di trovarsi in situazioni estreme e sempre accompagnato dalla sua proverbiale fortuna. Sopravvissuto illeso a due incidenti aerei nello stesso giorno, sarà anche testimone diretto e indenne di ben due colpi di Stato, sia in Yemen che in Marocco. Senza farsi scoraggiare dalle difficoltà, l'ambasciatore Ghieh continua a battersi per promuovere il dialogo tra cristiani, ebrei e musulmani. Forse non è un caso che Amedeo custodisca nella propria casa la reliquia di una spina della corona di Cristo, mentre nella sua scuderia si trova l'ultimo discendente del cavallo di Maometto. Oggi, a 98 anni, Amedeo Ghieh è ancora attivo e monta in sella al suo cavallo ogni mattina. Vive in Irlanda, la patria dei suoi ex nemici. Quando si riterò in Inghilterra, in Italia nessuno sapeva della sua esistenza. Invece gli ufficiali che avevano combattuto contro di lui e che lo consideravano come un grande cavaliere, e un grande soldato, lo onorarono, proprio come si conviene fra militari che si rispettano. Uomini schierati su fronti opposti, ma uniti da un comune codice morale. Con molti di loro, Amedeo Ghieh instaurerà un'amicizia fraterna, come con il maggiore Max Harari, che nel 1941 gli aveva dato la caccia. Uno dei suoi più acerrimi persecutori, l'agente britannico Vittorio Dan Segre, diviene addirittura suo biografo. Quando lo incontrai entrambi sullo stesso fronte, ne fui assolutamente conquistato. Glielo dissi subito, che era un piacere di vedere la faccia dietro i rapporti. E lui fu molto contento. Nel novembre 2000, il capo dello Stato italiano, Carlo Azzeglio Ciampi, conferisce al generale Amedeo Ghieh la massima onorificenza italiana, la gran croce dell'ordine militare della Repubblica. A 91 anni, Amedeo Ghieh torna in Africa per rivedere i luoghi della sua guerra. Gli eritrei lo accolgono come un eroe, anzi come il primo patriota dell'indipendenza eritrea. È lo stesso presidente, Isaia Safvörky, a ospitarlo con onori degni di un capo di Stato. Amedeo Ghieh non può mancare a un ultimo appuntamento con il proprio destino. C'è ancora un uomo, un uomo che deve vedere prima di lasciare l'Africa, l'uomo che 50 anni prima gli ha salvato la vita nel deserto della Dancaglia. Amedeo Ghieh, prima di lasciare per sempre l'Africa, vuole rivedere ancora una volta l'uomo che gli aveva salvato la vita nel 1941. Il mercante Al-Sayed Ibrahim El-Yamani non riconosce quell'anziano italiano. Lo coglie comunque cordialmente, dispiaciuto perché a causa del crollo del muro del pozzo non può offrirgli da bere. Questo è lo spunto per narrargli una storia che ripete da anni a chiunque lo ascolti. La storia di quando ha salvato dal deserto due iemeniti moribondi e di come si fosse affezionato a uno di loro. Il vecchio mercante è sicuro che quegli uomini siano stati inviati da Allah che spesso mette alla prova la fede e la carità dei suoi fedeli ponendo sul loro cammino incontri speciali e soprannaturali. Amedeo non ha dubbi. Quel viandante iemenita di cui parla Al-Sayed è lui. Sta per svelargli la sua identità, ma non vuole distruggere il mito dei due forestieri inviati da Dio. Salutando il suo benefattore, Amedeo Ghiglie gli dice di essere convinto che i due pellegrini prima o poi riappariranno, magari per riparare il suo pozzo. Congedatosi, Amedeo paga alcuni operai perché quella stessa notte aggiustino il Pozzo del Vecchio. Così l'indomani Al-Sayed potrà avere un'altra straordinaria novella da raccontare ai pellegrini del deserto. Quello stesso deserto dove si sono incrociati i destini di eroi senza nome e senza tempo. Testimone delle prodezze del tenente Ghiglie, delle scorrerie del comandante diavolo e dei miracoli di Allah. Il nostro corso gratuito è un'altra straordinaria novella. Il nostro corso gratuito è un'altra straordinaria novella. Il nostro corso gratuito è un'altra straordinaria novella. Il nostro corso gratuito è un'altra straordinaria novella.